Da sempre studiosi si confrontano su varie tesi sul rapporto tra la Gioconda e Leonardo da Vinci, che è ritratto nel quadro Uomo o Donna, ma secondo uno studio portato avanti dal Comitato Nazionale per la Valorizzazione dei Beni Storici, per realizzare l'enigmatico dipinto costudito a Louvre, Leonardo si avvalse di due modelli. Prima di una donna, Lisa Gherardini, moglie di Francesco del Giocondo, e poi di un uomo, il Salai, l'allievo prediletto di Leonardo, utilizzato come modello anche per l'angelo incarnato Sant'Anna e San Giovanni Battista. Abbiamo sovrapposto alcuni particolari del San Giovanni Battista, che era simile, con la Gioconda nel Louvre. C'è coincidenza perfetta tra il naso, che in effetti era il naso da uomo più che la donna, e la parte del blocco frontale. L'equip di studiosi, guidata da Silvano Vincetti per risalire a questa tesi, ha utilizzato l'indagine eseguita con gli infrarossi dal Louvre. La prima stratificazione del dipinto mostra il volto malinconico e triste di Lisa Gherardini, di cui parla Giorgio Vasari nelle sue vite, ma non il sorriso enigmatico che invece ricorda quello del Salai. L'unione quindi dei due volti avrebbe creato il dipinto più discusso della storia dell'arte, la Gioconda.